Nancy ama Jojo, la sua sorellina. Vogliamo giocare insieme? Sì! Ecco le cinque cose su Jojo. Uno. Jojo ha un amico immaginario chiamato... Dudley ci è già stato. Dudley! Oh, Dudley, sei molto simpatico. Dudley! Dudley è Dudley! Allora, preferisci giocare con un amico immaginario piuttosto che con tua sorella? Sì! Due. Jojo si allena per diventare una piratessa. Andiamo, pirata! Ancorare la nave! Riuscirà ad essere una grande piratessa. Scusa la pirata! Adesso è nostra! Tre. Or d'èvre. Un accompagno per il tè. Ne voglio uno anch'io. Jojo! Era il tè di Siffon! Ops, scusate. Ora sistemo tutto. Ho preso questo. Ho portato il cucchiaio. Voglio farlo anch'io. Piace tanto aiutare gli altri. Vi aiuto con la torre Fiffel? E il Fell, Jojo. Indovina qual è il numero quattro. Esatto! Jojo ride tantissimo. E ora un ultimo marshmallow, per favore, mamma. Un attimo. Dove sono finiti i marshmallow? Oh, Frenchy! Cinque. Jojo adora il suo pupazzo scimmia, Mr. Monkey. Ma Jojo, ci sarò anch'io a tenerti compagnia? No! No, no, no! Bene, non sempre direi. E queste erano le cinque cose su Jojo. Non perdere Fancy Nancy Clancy, solo su Disney Junior. Clicca sullo schermo per vedere altri video e vai su Disney Junior per seguire i tuoi programmi preferiti. o buone nu Grazie a tutti.